Shalom, pace a voi, buona domenica. È la ventottesima domenica del tempo ordinario. È la domenica nella quale il Signore ci chiede di vivere autenticamente la nostra vita. Shalom a voi, cari anziani e cari malati. Come sempre per voi, il mio primo saluto di pace, di serenità, di gioia. Il Signore vi riembia il cuore del suo amore e vi faccia sperimentare la presenza del suo amore, quell'amore che non viene mai meno, soprattutto nei momenti in cui noi viviamo maggiormente la sofferenza e la solitudine. Shalom a voi, cari ragazzi e cari giovani. Come sempre il mio invito a vivere bene la vostra vita in modo autentico e quello che il Vangelo oggi dirà in particolare a ciascuno di voi, ma lo dice a tutti. Ma voi giovani parla oggi in modo particolare. Lasciate che lo sguardo di Cristo si posi su di voi, vi guardi con amore e vi faccia l'invito a seguirlo con gioia. Shalom a voi, care famiglie. Come sempre il mio invito, la domenica sia il giorno della famiglia, il giorno la famiglia in cui la famiglia si ritrova, nell'amore, nella serenità, nella gioia, nel tempo libero, che sia la domenica il giorno in cui la famiglia ingondra il Signore nella celebrazione dell'Eucaristia. Shalom a voi, cari telespettatori. La pagina del Vangelo che viene proclamata nella giornata di oggi ci parla di quel giovane che va da Gesù chiedendo cosa devo fare per avere la vita eterna. E Gesù, dopo aver ricordato i comandamenti, dice va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Quel giovane che con entusiasmo aveva cercato il Signore e si era presentato davanti a Lui, si rattristò, divenne triste, se ne allontanò, perché aveva molte ricchezze, dice il Vangelo. Ed è questa l'esperienza di vita che noi dobbiamo fare come credenti. E in particolare, dicevo prima, l'invito è rivolto ai giovani, ai giovani che si interrogano sulla loro vita, sul futuro della vita, su quello che è l'impegno della loro vita. Questo giovane che va da Gesù chiede cosa devo fare, facendo un po' della sua vita, della sua fede, un qualcosa da fare. Ma Gesù vuole autenticità. Gesù non insegna dei comandamenti. Gesù vuole un impegno di vita. Gesù vuole entrare nella vita delle persone. Vuole l'autenticità, la gioia nel seguirlo. Liberi da tutto. Perché molte volte noi siamo condizionati da tante cose e non abbiamo quella libertà interiore che invece il Signore chiede a ciascuno di noi per essere veramente nella libertà del suo amore e per fare esperienza del suo amore. Al giovane che chiede cosa devo fare, Gesù risponde vivi, cioè fai della tua vita qualcosa di bello, di autentico. E' quello che diceva Giovanni Paolo II quando parlando ai giovani diceva fate della vostra vita un capolavoro, cioè date senso alla vostra vita. Non sono le cose che facciamo. Anche nell'ambito della fede non sono le pratiche religiose che manifestano pienamente la nostra vita. Ma quello che noi viviamo, quello che noi siamo, quello che noi mettiamo in pratica, questo è quello che conta davanti al Signore. Il Signore ci chiede di seguirlo con libertà, con autenticità, di andare dietro di Lui senza lasciarci condizionare da nulla. All'inizio del mese di ottobre abbiamo celebrato Francesco d'Assisi, questo giovane che era preso dalle sue ricchezze, come il giovane che si presenta da Gesù. Ma Francesco a un certo punto sceglie la libertà, si spoglia di tutto e fa della sua vita un dono d'amore al Signore. E questo è quello che noi dobbiamo operare nella nostra vita, questa libertà interiore per amare il Signore con tutto il cuore, per essere per i nostri fratelli segno di quella libertà che dona la serenità nell'anima e soprattutto dona lo sguardo sereno per guardare al futuro con serenità. Shalom, pace a voi, buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.